Allora facciamo la prova di questo... Stai già registrando? Si Ok Stop grinding your heart out Attenzione, è una suona pulita all'inizio Sentiamo il volume Provate ad appeggiare un attituito insieme 3...4 Ma cerchi di fare il ta-ti Sta male Cioè, segui il ritmo anche facile Due meno low Riad la data l'anima modella Si I Lo fa che mi sentite pianto forte con le chitarre? Uno Due Tre Via La fermo ancora in introduzione, fammi sentire il suono del basso, ok, perfetto, mi tieni da subito un po' di piattini che prendi ok, allora, prova di registrazione, io faccio la melodia, preparati poi chiaramente sul discorso. Quando c'è quella parte che fanno, facciamo la set, mettiamo la nuve, va, vale, un, 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 un. E' un pochino alto secondo me, lo puoi abbassare un pelino appena appena, quando fai con l'arpeggio lì, si sente nell'insieme un po' troppo, appena appena. Ma il volume di inizio? Si si, attenti, cos'è una cosa di prima? Delle volte ha un po' sempre chiuso, si sente anche un nuovo l'etro, e lo apri, e lì dall'inizio, dall'inizio vai. Attacco nel senso preciso, 3, 4, 3, 4. Un po' sempre chiuso a sé. Grazie per la visione!